Ciao ragazzi, io sono Ita. Oggi sono qui per farvi conoscere il prodotto della Redken. Stiamo parlando di Work Hard. È una pasta modellante con un controllo forte, proprio per quei ragazzi, per quei uomini che vogliono avere una tenuta, una tenuta forte, proprio per quei tagli avant-garde che necessitano appunto di una cera strong, una cera forte però che non lascia residui e che dà un effetto matte, quindi non dà un effetto gelatinato brillante. Quindi questa è una cera che dà forza al capello, quindi una texture molto molto forte, non ha un effetto brillante, quindi dà un effetto opaco e non lascia residui, cosa molto molto fondamentale. Ne basta veramente pochissimo. Voilà. Non lascia residui, pochissimo prodotto sulle dita. Una texture impeccabile che dura veramente per ore, 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 ore. Quindi se fa per voi, Work Hard. Provatelo. Ciao.